Salvati, mi sta seguendo? Sì, sì. Ci vuole un donatore. Come fanno a prenderlo? Un mago. La mia risposta è sì. Io darei la vita per te, mi sembra normale. Tratto da una storia vera. Lei è una sorella che non sapeva di avere. Io andrei di corsa. A dove sta? A Livorno. Si chiama Fiorella. Scusi, lei è l'unica Fiorella che lavora qua? Sì, Andrade, sì. La posso aiutare? Sì. In prima visione, cosa sarà? Questa sera, 21.30, Rai 1.